Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di una leggenda assoluta, la Ferrari 330 P4. Questa straordinaria vettura da corsa non solo rappresenta una delle pietre miliari della storia Ferrari, ma è anche simbolo di un'epoca d'oro dell'automobilismo e di una delle rivalità più intense nel mondo delle competizioni, quella tra Ferrari e Ford. La 330 P4 è diventata un'icona, non solo per le sue prestazioni, ma anche per il design. La storia e i successi leggendari che ha ottenuto. Pronti a scoprire tutti i dettagli di quest'auto unica? Negli anni 60 la Ferrari era già un nome rispettato nelle competizioni di durata, specialmente alle man. Tuttavia nel 1966 Ford conquistò il podio alla 24 ore di Le Mans con la GT40, relegando Ferrari a posizioni inferiori. Enzo Ferrari non poteva accettare una sconfitta simile, tanto più perché Ford si era proposta di acquistare Ferrari qualche anno prima, ricevendo però un rifiuto. Per Ford la vittoria Le Mans era una vendetta, per Ferrari una sconfitta da vendicare. La risposta di Ferrari arrivò con la 330 P4, una evoluzione della 330 P3. Già una vettura estremamente performante, ma il team Ferrari sapeva che sarebbe servita un'auto straordinaria per battere la GT40 e riportare il cavallino rampante in cima, così nacque la 330 P4, pensata per eccellere su ogni aspetto. Potenza aerodinamica, fidabilità e maneggevolezza. La Ferrari 330 P4 è ancora oggi considerata una delle auto più belle mai costruite. Il suo design, curato da pirinfarina, è stato aggressivo, quanto elegante, perfettamente bilanciato tra estetica e funzionalità. La vettura ha linee affinanti e muscolose, studiate per garantire la migliore aerodinamica possibile. Le linee morbide della 330 P4 favoriscono il flusso d'aria, riducendo la resistenza e mantenendo la vettura stabile, anche alle alte velocità. La forma è caratterizzata dal lungo cofano e dalla cabina compatta, quasi integrata nel corpo dell'auto. Dietro troviamo una coda allargata, con grandi passaruota che ospitano plasmatici massicci, migliorando trazione e aderenza. Una delle caratteristiche più distintive è il grande diffusore posteriore, studiato per ottimizzare l'aerodinamica e tenere la vettura ben salda a terra, nelle curve più veloci. La presenza di doppi scarichi e le griglie sul cofano per il raffreddamento del motore non sono solo elementi di design, ma dettagli funzionali per migliorare le prestazioni complessive della vettura. La Ferrari 330 P4 è alimentata da un motore V12 da 4 litri a 4 alberi a cam, capace di erogare circa 450 CV a 8.000 giri al minuto. Questo motore è un capolavoro ingegneristico evoluto, rispetto alla versione della P3, per essere ancora più potente ed efficace. Il V12 della 330 P4 utilizza una configurazione con doppie valvole per cilindro e un sofisticato sistema di carburatori Weber, specificamente scelti per garantire un'erogazione costante e potente, anche nelle lunghe distanze. Con questa configurazione, la P4 è capace di raggiungere una velocità massima superiore ai 330 km orari e di accelerare con una forza straordinaria per i suoi tempi. L'architettura AV a 60 gradi del motore non solo ha permesso di mantenere un baricentro basso, essenziale per la stabilità in pista, ma ha anche garantito una disposizione ottimale della potenza tra le ruote posteriori. La trasmissione è il manuale a 5 rapporti, pensata per offrire al pilota un controllo preciso della vettura in ogni situazione. La Ferrari 330 P4 è costruita su un telaio tubolare in acciaio, una scelta che garantisce robustezza e leggerezza. Questa struttura permette di distribuire in peso in modo equilibrato tra l'anteriore e il posteriore, migliorando la maneggiavolezza e il controllo in curva. Il peso complessivo dell'auto è di circa 800 kg, rendendola leggera e agile. Le sospensioni sono indipendenti su tutte le ruote, con barre antirruglie, che riducono al minimo il rullio nelle curve. Il sistema di freno a disco, dotato di un'ampia superficie per la dissipazione del calore, offre una capacità frenante eccellente, indispensabile per le gare di durata. La Ferrari ha dedicato particolare attenzione ad ogni dettaglio tecnico della 330 P4, dimostrando un impegno assoluto per creare un'auto che fosse all'altezza delle sfide più dure. La Ferrari 330 P4 ha scritto pagine importanti nella storia delle competizioni. Nel 1967 la vettura partecipò alla 24 ore di Daytona, dove conquistò i primi tre posti, vendicando la sconfitta del 1966. Questa vittoria è diventata iconica, tanto che la P4 viene spesso ricordata come la Daytona, per il suo trionfo in quella gara. Successivamente la P4 partecipò alla 24 ore di Lehman nel 1967, dove terminò seconda dietro la Ford GT40. Nonostante la rivalità con Ford, sconcluse con una sconfitta per Ferrari alle mani. La P4 continua a dimostrarsi una delle auto più competitive dell'epoca. Partecipò con successo a numerose altre competizioni, come la Mille Miglia di Monza, conquistando vittorie che consolidarono ulteriormente la sua reputazione. Le prestazioni della P4 in pista sono il frutto di un equilibrio perfetto tra potenza, agilità ed affidabilità. La sua capacità di mantenere alte velocità senza sacrificare la maneggiavolezza ha fatto di questa Ferrari una delle auto più temute nelle gare di durata. La Ferrari 330 P4 ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'automobilismo. Con solo tre esemplari costruiti, è una delle Ferrari più rare e desiderate dai collezionisti di tutto il mondo. Il suo valore storico e culturale è inestimabile, così come il suo contributo alla tradizione delle vetture da corsa Ferrari. Il design della 330 P4 ha ispirato molte delle vetture successive e continua ad essere un riferimento per le auto sportive moderne. Ancora oggi i fan e gli esperti del settore considerano la P4 una delle Ferrari più affascinanti mai costruite, sia per la sua estetica che per le sue prestazioni. In conclusione, si può dire che la Ferrari 330 P4 rappresenta molto di più di una semplice vettura da corsa. È un simbolo dell'eccellenza tecnica e della passione che è Animano Ferrari, un'auto costruita non solo per vincere, ma per lasciare segno indelebile. La sua storia è quella di una vettura progettata per affrontare le sfide più dure, un'auto che ha saputo imporsi come una vera e propria leggenda. Con la sua estetica inconfondibile e le sue performance eccezionali, la Ferrari 330 P4 ha scritto alcune delle pagine più emozionanti dell'automobilismo e continua ad essere fonte di ispirazione per appassionati e ingegneri. Un'autentica icona che nonostante il passare degli anni rimane insuperabile nel cuore di tutti gli amanti delle corse e delle grandi imprese fermate Ferrari. Il video si conclude qui, se volete supportare il video che faccio, porterò ancora, vi consiglio di lasciare like per avere altri video, e condividere per far conoscere il canale ad altra gente e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere gli aggiornamenti sui nuovi video. Il video si conclude qui, ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!